una realtà in continua evoluzione fratelli cappadonna azienda leader nel settore forniture elettriche illuminazione a led climatizzazione domotica sicurezza automazione illuminotecnica antennistica anti infortunistica elettroutensili fratelli cappadonna nuovi settori termoidraulica e riscaldamento termocamini stufe a pellet caldaie le migliori marche e le ultimissime novità fratelli cappadonna a mineo contrada piano bruscato bivio mineo calta girone via vittorio emanuele orlando e piazza armerina via generale muscarà info 0 9 3 3 98 15 51 sul web cappadonna punto i da cappadonna offerta di fine anno valida fino al 15 gennaio ritira il coupon che trovi all'ingresso presentalo per l'acquisto dei due prodotti in promozione e riceverai in omaggio una griglia elettrica russell hobbs vieni a scoprire le super offerte a pallet il pallet di primissima qualità a soli 5 euro e 49 al sacco fratelli cappadonna a mineo incontrata piano bruscato a calta girone in via vittorio emanuele orlando e a piazza armerina in via generale muscarà info 0 933 98 15 51 sul web cappadonna punto it